Sul palco Maurizio Casagrande! Ti sei scanzato all'ultimo momento, hai capito? Vabbè, dai, abbiamo risolto! Eccomi qua! Oh, sei qua e finalmente è il tuo momento! Ti faccio cantare, sì! Oh, non vedevo nulla! Oh, eccoci qua! Bene! Che è successo? Salve! Io l'odio, dimmi tutto caro! Scombare la mano, scombare la mano! Questo è il microfono, ti spacco la testa! Va bene, lo so, lo so! Abbiamo delle telefonate di persone che sanno che devi cantare e quindi partiranno queste telefonate! Sì, sono delle tue fan! Sono tutti i tuoi fan! Ma telefonate in diretta, tipo anni 80, mi piace! Settiamo! Mi piace, mi piace! Allora, proviamo! Possiamo parlare? Sì! Pronto? Pronto, sono in diretta! Il signor Casagrande! Prego! Lei è bravissimo! Grazie! Io sono un suo grandissimo fan! Lei è un grande attore! Bravissimo! Grazie! Ma perché c'è tanto su questa canzone, però non hai capito! Eh no! Adesso arrivato! Chi è questo imbecille che ha chiamato? Grazie! Che fan è questo? Grazie per la telefonata! Ne abbiamo un'altra? Pronto? Maurizio! Sì? Ma è vero che devi cantare? Sì, devo cantare! Veramente? Sì! No, l'uomo non è che gioca a pallone! Ma è ancora? Ma che andate dal telefono? No, no, per fortissimo! No, no, no! Aspetta! Sì! Mi dicono... Veramente! Non ci credo! Da Hollywood, dall'Academy degli Oscar! Pronto? Pronto! Chi è? Chi è? Sono Will Smith! Will Smith! Will Smith! Addirittura! Mamma mia! È grande Will Smith! Grande Will! Mi dispiace questa paralisi alle corde vocali! Ma è bellissimo! Maurizio, ho saputo che devi cantare! Voglio venire lì a farti i complimenti dal vivo! Vieni qui in studio? Sì! Ma è sicuro? Sì! Ti annuncio se vieni sicuramente! Sì! Dico, se vieni sicuramente ti annuncio! No! Non preoccuparti! Entro a schiaffo! A schiaffo? A schiaffo! A schiaffo! A schiaffo! No, non venite! No, no! Lasciamo stare! Will Smith a schiaffo è pericoloso! Sì, sì, tanto! No, 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 no! Però noi abbiamo proprio anche... Esatto, Lorella! Esatto! Dei VIP qua! Io lo sto capendo dire! Che vuoi? Sono delle persone che vogliono entrare qui a salutarti dal vivo e dirti qualcosa! Sì, sì, sì! Sì, sì! Chiamiamoli! Loro sono di Guidonia! Eh? E chi sono? Non è Gianluca Guidi! No! Attenzione, sono di Guidonia! Attenzione il microfono! I gemelli di Guidonia! Ah, sfido! Buonasera, buonasera! I gemelli di... Maestro! Buonasera! Ragazzi! Un applauso, i gemelli di Guidonia! Buonasera! Ciao ragazzi, ciao! Che bello! Sono felicissimo di avervi qui, che è un meraviglio! Allora, io canto... Canto con loro! Allora, ragazzi... Visto che è improvvisata questa cosa, che vogliamo cantare? Vabbè, no, ma come è improvvisata? Scusa, abbiamo provato la canzone fino a cinque minuti fa in camerino! Imbecille, imbecille, non lo dovevi dire! Perché? E facciamo finta che è improvvisata... Vabbè, no, non era improvvisata... Vabbè, facciamo la canzone che abbiamo detto, allora? Quale? Quella di... Di Massimo... Eh? No, 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 no! Perché no? No, quella là è rischiosissima! Pericolosa, è pericolosa! Ah, perché si può fratturare una corda vocale? Che poi si dice? No, è pericolosissima! No, evitiamo, evitiamo! Allora, dobbiamo veramente... Allora, che vogliamo cantare? Possiamo fare... Io canto! E io che faccio? No, io canto il titolo della canzone! Ah, io canto! Ah, sì, sì, sì! Lascio, lascio! Faccio io canto, allora! E ti accompagniamo, penso! È un onore per noi! Voi introduciamo, proprio... Bellissimo! Vai! Io canto! Le mani in tasca e canto! Canto! Ma è meglio se non canti! Io canto! Con te sono solo pianti! Per chi ti ascolterà! Ah, 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 ah! Ma che è questa sciocchezza? Non sei più forte lui! No, ragazzi, per cortesia, guardate, veramente, no! Allora, le faccio... Fatevi più là! Non bastava dei comici scemi, ce ne volevano altri! Allora, andiamo qua, per cortesia! Allora, ragazzi, è un momento importante! Ma ti voglio... Dove sta quell'altro idiota? Chi è? Clementino! Clementino, vieni qua! Salve! Fai la persona seria, vieni qua! Sì! Vieni! Tu, tesoro, vieni qua! Sì! Eh, se è possibile che lo... Loro sono i gemelli di Guidonia! Non cominciare, lo so che sono i gemelli di Guidonia! Sì, loro, loro! Lo so, allora fai una cosa! Vieni qua! Presentami, perché io voglio cantare la canzone di... Signore e signori, i gemelli di Guidonia! Grazie! Ma che presenti i gemelli? Sono io che devo cantare! Presenta bene! Non è quello venito in faccia, io lo voglio uccidere! Ripresentati Maurizio... Il bravissimo Maurizio Casagrande! Il bravissimo Maurizio Casagrande! Sì, ho capito! Il bravissimo Maurizio Casagrande! Ok! Signore e signori! Il bravissimo Maurizio... Il bravissimo... Maurizio Casagrande! Non ce la faccia! Un'ora ce la dobbiamo fare! Non ce la faccia! È un idiota! Allora... Signori... Signori... Il grande... Gemelli... Casagrande! Che gemelli di Gesù! Quelle è? Signori... Maurizio Casagrande! E i gemelli di Guidonia! Mamma mia! Vieni la vicina! Vai! Facciamo... Vai! Quella! Vai! Fatta bene! Se bruciasse la città! Da te! Da te! Da te! Da te! Ma che è? Ma che è? Ma che è? E' la canzone! I gemelli! Non brucia niente! Allora... Oddio... Dobbiamo andare in pubblicità! 46 secondi e torniamo! Metti in giù! Mantenere la calma! Mamma mia!